sono un pezzo di quadro solo per curiosità quanto tempo vuole che abbiamo preso pranzo comunque di tempo è un fatto mento minuti otto minuti si può fare alla fine sapere conoscendo il livello completa senza interazione senza morire in cui la notte luminosa come il giorno e noi esploriamo in cui la notte è un po' 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 Capizzo, capizzo. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok 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 Ah ho capito, ho capito. Ah 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 ho capito. Grazie a tutti Oh Io non aspettavo che mi facesse la piattaforma di nuovo E vabbè Come devo fare Come devo fare Oh Colala Colala Dai, fammi ritornati! Oh! Oh, che d'hoffa! Non capisco. Ora capisco, ora capisco. Questa potrebbe essere la metafora. Mi ricordo che quando la prima volta vedi l'annuncio di Metroid Prime 4 avevo una reazione del genere. Poi me l'hanno cancellato e avevo una reazione del genere. Poi mi hanno detto che l'ho sviluppo è passato da RetroStudio e quindi ho avuto questo tipo di reazione. Quanto sono schermo. 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 Ah non è morto, bene male. Mi sarebbe quasi dispiaciuto, guarda. Quanto sono schermo. Quanto sono schermo. Quanto sono schermo. Ma che devo fare? Ok. So già cosa devo fare. Quanto sono schermo. Quanto sono schermo. Quanto sono schermo. ok spostati amico, tu vai qua, lui fa così, aspetta, aspetta un attimo vola amico mio, vola ok spostati, aspetta un attimo ok spostati, aspetta un attimo Grazie a tutti Sì, siamo Ok, 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 ok Ah no, non penso niente. No tu stai lì, no tu stai lì, no tu stai lì, no tu stai lì, t'ho detto lì. Oh no, non fai il pirna, ma porca puttana, ma perché devo fare senza, ok, non aspetta, non aspetta, non aspetta, non aspetta, non aspetta, non aspetta. Oh no. 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 Oh no.